Tra Cetraro e Guardia Piemontese in provincia di Cosenza sulla costa tierrenica i carabinieri hanno scoperto una piantagione di canapa indiana ed arrestato due persone con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. L'operazione odierna rappresenta un altro importante risultato del comando provinciale di Cosenza e in particolare del lavoro della compagnia di Paola che è riuscita a individuare una estesa piantagione di canapa indiana in territorio molto difficile per le sue caratteristiche morfologiche e è riuscita a arrestare due soggetti che si dedicavano alla coltivazione di questo stupefacente. L'attività è stata coordinata e ringraziamo di questo da parte del procuratore della Repubblica di Paola, il dottor Pierpaolo Bruni e dalla dottoressa Cerchiara che ci hanno seguito passo passo nella fase precedente all'attività esecutiva e che poi è stata posta in essere oltre che dai militari della compagnia di Paola e precisamente alla stazione di Guardia Piemontese e dai colleghi della stazione forestale di Cetraro e con il brillante e fondamentale supporto del gruppo riportato Cacciatori di Calabria che anche in questa circostanza hanno consentito di arrivare a questo importante obiettivo che non era di facile acquisizione atteso le caratteristiche del terreno e atteso la difficoltà di individuare i vari appezzamenti di canapa indiana che poi sono stati sequestrati. Parliamo di oltre 790 piante per un valore complessivo una volta messo sul mercato di oltre 300 mila euro. Nel corso delle indagini è stato accertato inoltre che i due non hanno alcun collegamento con la criminalità organizzata. Si tratta di due disoccupati che probabilmente operavano autonomamente o comunque sono ancora in corso delle ulteriori indagini per stabilire eventuali collegamenti che non sono stati accertati allo Stato.